Vostro figlio è miope. Cosa si può fare per vostro figlio? Il controllo della miopia. Ma prima di tutto, cos'è la miopia? La miopia è un problema della vista. Il risultato è un aumento del bulbo oculare e la formazione di immagini sfocate. È esattamente questo che rende difficile la vita di un bambino miope. A scuola, nella lettura da lontano, come ad esempio alla lavagna. Normalmente si diventa miope tra i 6 e i 12 anni e questo difetto può aumentare progressivamente nei giovani. Il problema non è solamente avere delle lenti più spesse. La miopia aumenta anche il rischio di malattie oculari, come il distacco della retina e la degenerazione maculare. Se la miopia si sviluppa rapidamente, la visione del bambino si degenererà nel giro di qualche mese soltanto. E questo può influire sulle prestazioni scolastiche e sportive. Fortunatamente, oggi esistono dei mezzi per rallentare la progressione della miopia. L'orto-cheratologia o lenti notturne, che si indossano durante il sonno e permettono una buona visione durante il giorno. Le lenti a contatto multifocali. Lenti speciali che frenano la progressione della miopia. Occhiali specifici. Lenti oftalmiche con una qualità ottica ottimizzata, per aiutare la visione da vicino e che riducono la progressione della miopia. Le gocce oculari di atropina molto diluite possono ridurre la progressione della miopia. Come si può ridurre il rischio della miopia? Regolari visite agli occhi. In questo modo la miopia e gli occhi sono sempre sotto controllo. Limitare le attività da vicino. Una visione troppo da vicino e troppo prolungata, così come una scorretta focalizzazione, affaticano molto gli occhi. Passare del tempo all'aperto. La luce del giorno favorisce un sano sviluppo dell'occhio. Contattateci subito per un colloquio informativo gratuito senza impegno.